La guerra intestina il carroccio continua e si arricchisce di una nuova vittima, il presidente del consiglio provinciale di Treviso, Fulvio Pettenà, silurato dal direttivo nazionale che ha deciso di sospenderlo per sei mesi. Motivo della sanzione è un'intervista nella quale Pettenà, oltre ad avere denunciato lo sbando nel quale versa la Lega trevigiana, commissariata da quasi due anni, ha criticato il segretario del carroccio Veneto per non aver evidenziato l'assenza di Big della Lega nello scandalo tangenti, tradotto di non aver sottolineato l'onestà di Zaia. Tosiani è fedelissimi al governatore, ancora una volta protagonisti della faida intestina al movimento e proprio le simpatie per il presidente della regione, da sempre manifestate da Pettenà, leghista della prima ora, in primo piano tra gli Zaia Boys, sarebbero all'origine del provvedimento, secondo naturalmente i fedelissimi del governatore, di tutt'altra idea, Tosi. Il governatore Zaia non c'entra nulla, non c'entra nessun altro tipo di vicenda, ci sono delle regole all'interno del movimento che tutti devono rispettare. Quell'intervista se l'avesse fatta un veronese, un vicentino, un padovano, chiunque, forse non se la sarebbe cavata con i sei mesi di sospensione, ma si è tenuto appunto conto della figura, del ruolo e dell'anzianità di militanza per avere un provvedimento mitigato da queste motivazioni. Pettenà dal canto suo si dice sereno, tutto è nato da un'incomprensione ho chiarito contosi il senso delle mie parole, comunque, sottolinea il presidente del consiglio provinciale, se c'è una sanzione da buon soldato mi adeguo. Ma intanto le ostilità sono riprese in un carroccio dilaniato dalle lotte intestine, sospensione dolorosa ma necessaria, secondo Leonardo Muraro, dalla quale però ripartire per recuperare l'unità nella Lega Trevigiana. Dobbiamo ricostruire una unitarietà all'interno della Lega Nord Trevigiana e chiederò proprio a Fulvio di aiutarmi nel ricongiungere quello che sono le posizioni della Lega Trevigiana con responsabilità partendo anche dalla nostra maturità di appartenenza all'interno della Lega Nord.